Ciao a tutti ragazzi bentornati nel canale di Giacone per Svapo dello Svapo X Svapo siamo qui per dirvi che grazie a un suggerimento di un nostro follower che salutiamo bastardo, ciao Sergio abbiamo deciso di fare visto che comunque noi recensiamo parecchi liquidi di fare la nostra top ten top ten ed ecco qui in tabacosi come vedete qua e cremosi fruttati che nei video che verranno fuori ovviamente nei video di liquidi se sarà il caso di inserirli se il liquido merita oltre ad avere un buon voto se per noi è meritevole verrà inserito appunto nella top ten ringraziamo anche la regia che ha scritto anche se top 10 è un po' da il mio falegname avrebbe scritto meglio solo top 10 poi questi qua sono scritti bene però vabbè la ringraziamo non ce l'ho il falegname c'ho il fabbro si e basta la lavagnetta la vedrete sempre nei video appesa là dietro fai vedere visello dove sarà sempre così almeno sarà lunga distanza voi la vedrete sarà un po' distante però nel momento in cui dobbiamo inserirlo lo portiamo qua davanti vi facciamo vedere lo inseriremo in diretta durante il video lui di solito non la vedrete perché io il mio medesimo piccolo la comprerò quando cambieremo posto di fare video magari la metteremo in un altro posto comunque basta non è solo dire questo potete andare dove volete adesso basta va bene ciao va bene